Giornata Varesina per Giulio Gallera, ospite della SST Sette Laghi, per una visita negli ospedali del capoluogo di Cittilio. Assessore Gallera, cerco di riassumere quello che ha detto a margine di questo sopralluogo Varesino. Ha trovato una buona situazione, alcune eccellenze e un sistema che aspetta di essere implementato, come tutto il resto della Lombardia, con una vera attuazione della legge 23. Assolutamente così, questa è un'azienda che ha le caratteristiche per attuare quella legge che vuol dire curiamo nel luogo giusto rispetto al bisogno che ha il paziente. Ha un grande hub che è Avarese, che è l'ospedale di Circolo e il Del Ponte, su cui noi stiamo investendo, risorse economiche per il personale per completare il parco uomini del Del Ponte. Ho visto l'ospedale di Circolo oggi con le sue grandi eccellenze, l'audiovestibologia che è attrattiva da tutta Italia, la Senologia e la Bress Unit, che è la prima Bress Unit pubblica della Lombardia, il pronto soccorso ed altre strutture di grande qualità. Poi ha una serie di ospedali di comunità che fanno un lavoro egregio. Oggi ho visto Cittiglio, che ha un punto nascita che addirittura negli ultimi due anni è cresciuto quasi del 50% per la qualità del servizio. Ha gli ospedali di Luino, Angera e Tradatte, che avevo visto gli anni scorsi, su cui abbiamo fatto particolari investimenti. La carenza di medici che affligge l'Italia intera sarà in parte compensata dall'aumento dei fondi spendibili e dallo sdoganamento in reparto degli specializzanti. Sul tema però l'assessore non risparmia una frecciata al Ministro della Sanità Grillo. Non deve spiegarci come si lavora, ma darci gli strumenti per poterci organizzare. Ma quando si mandano lettere dicendo fate un piano per tagliare le liste d'attesa oppure fate il piano per ridurre il congestionamento e il pronto soccorso e non ci si danno uomini dedicati, non ci si danno possibilità di avere risorse da destinare a questo, si fanno delle operazioni un po' demagogiche. Allora noi siamo uomini che sono abituati ad affrontare i problemi sul territorio e a provare a dare delle risposte e lo stiamo facendo con grande concretezza. A fianco di Gallera i manager della SST guidati dal direttore generale Bonelli, il vertice di ATS Insuber Lucas Gutierrez e il presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti, il quale ha portato a casa tra l'altro parole chiare sull'apertura notturna di pronto soccorso che fanno capo all'azienda dei Laghi, i nuovi condizionatori per placare l'AFA di Cittiglio e i 10 milioni di euro utili a sistemare l'ospedale di Tardate. E questa è una risposta efficace a tutti coloro che ciclicamente temono l'impoverimento o addirittura lo smantellamento dei persidi minori. A questo proposito lei ha voluto anche tranquillizzare l'utenza sui pronto soccorso. Non esiste la possibilità che alcuni di loro chiudano del tutto o in parte? L'ho voluto dire molto chiaramente con cui l'assessore. I pronto soccorsi degli ospedali nella nostra provincia, nello special modo proprio quelli dell'azienda della SST dei Laghi, non saranno chiusi la notte. Andremo, è vero, a livello regionale a rivedere quello che sono gli orari per alcuni plessi ospedalieri, ma non sarà il caso degli ospedali, dei plessi ospedalieri di questo territorio. Grazie. Grazie.